Salve a tutti ragazzi sono EpicBoss e qui con me c'è Stavemeister Grazie Siamo tutti Scusate se l'aga come un porco che sta caricando anche l'altro video Poi con Frazza, aspettate che chiudo questa Ecco allora Stave, fai una fazione che mi inviti Siamo su TechKit, non siamo su Minecraft, è cosa da precisare Ok, devi fare app JoinBetaHouse Come l'ha chiamata? BetaHouse Tutto attaccato BetaHouse Sì Ecco, successo join Ok allora dobbiamo farci una casa Ma sono infel... ma perché non ci sono i mostri? Oh ci sono delle luci là Oh devo vedere di là LOL Oh my god Oh lol hanno pure scritto Oh lol Visto voi non sapete che brutto con l'ago Soltanto che tipo mi sta andando a 2 FPS LOL che cazzo Il vetro rinforzato c'è Stave Ragazzi la nostra prima casa No è il vetro normale Ah il vetro mi sembra... wow che figata Ma che cacchio non va? Secondo me gli admin hanno fatto un po' di cazzeggio qua eh Eh anche secondo me LOL è lì Oddio Oh my god A meno che in te kit il vetro non si formi da solo in qualche modo Con la lava magari è possibile Stave No no LOL dove abitiamo? Seguimi Eh non ti vedo più Qua Dove? Che lo sei? Ti ho perso Quasi sono ad aria la pazza gioia Oddio Oddio Stave è pericoloso Attento Sì attento che qua c'è l'ho Scusate per il lag che sto caricando il video E che siamo già a buon punto quindi non lo stop Nel prossimo video che farò non sarà così laggioso E mi sentite un po' male per il microfono nerd Che prima ho pure disattivato due ore per riabilitarlo LOL che facciamo? Ci facciamo una casetta qui? No Sto cercando di scendere Ah Fai così No scava Ecco Trovato la roccia Vuoi vedere come si scende? Ecco sono sceso Very good Ok andiamo Andiamo da qualche parte Ragazzi guardate che Abbiamo fatto un record E' stata una cosa epica Ci abbiamo messo due ore per trovare un server Andiamo verso sta La montagna da forma insolita La montagna a forma di cacca Te la ricordi? Sì No Mi ha crashato Scusate Ti ha crashato Ti aspetto qua Eh sapete che Minecraft e TechKit pesano particolarmente E quindi Crash E quindi crashano TechNit, TechKit Quelli di questo pacchetto pesano abbastanza Quindi fa il crash Ah si c'ha un bordello di mod quindi Ok ragazzi Ok ragazzi Per la prima volta sto mettendo una texture pack in TechKit Si Steph però vieni non li far aspettare poveri Si faccia subito Ti vogliono tanto bene Iscrivetevi al nostro canale come sempre Che sarà una cosa epica Diventerà Il mio è quello di Epic Boss e quello di Steph e di Mr. Icer Non lo stai Ho trovato una casa Ed è griffabile Ah è già griffata Vabbè Dai Steph vieni Dammi un secondo È una villa? Griffata ma è una villa? Può sembra qualcosa Questa è il suo Su Aspetta Guarda su Ancora mi sta facendo login La texture ti lagerà peggio di me Ok Ok a posto Ecco vieni Stati guarda Di là c'è una villa in rovina Aspettate Grazie La visuale era far La visuale era? Far Lontana Ecco perché mi lagga Ora non mi lagga più Ma dove sei? Signori Textures Fax 128x128 E non lagga Dove sei? Ah mi ti pia Se c'è Una persona Dai Io dove sei? Dove sei? Forse sono io quella persona Ah mi ti pia No Eccoti 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 Fermo Girati Sono io Aspettami Ti raggiungo Vedi la casa in rovina Ehi Là c'è una persona No davvero Si Beh Steph se ha un'arma Sai che non finiamo bene Andiamo a ruggirlo Aspettami Voglio venire anch'io Solo che tra il lag E la sabbia che mi cade in testa Ah no Che schifo di server Va Perché? Dobbiamo dichiarare che è il nostro nemico Quindi fino a quando avrà una fazione Non posso Ah Oh mio Dio aiuto Sono caduto Tirami dei cubi Sono caduto qui sotto Non ho nulla per E ne sa dire No ti sto ammazzando Non mi può ammazzare Che sto morendo di fame Ne chiedi del cibo Chiedi food Ragazzi questo server Anche se l'abbiamo Trovato E non ammazzato Che cazzo Il petrolio Lol Petrolio signori Abbiamo trovato l'oro nero Oh my god Ah Ma so qui che armatura ha L'armatura nucleare No Avrà quella di zaffiro No è quella nucleare Oh Altro vetro c'è di là Ma mi sembra una costruzione più interessante Fammi il TPA Non c'è il TPA Oh mio Dio Come fa Oddio Oddio No Gesù Fai led at flying Sei morto Sì Esiste il TPA Prova a fare il TPA Sì c'è Lol guarda Ho perduto tutto Vabbè non è che avrò qualcosa Ti ho fatto accettato eh Sì sono accanto a te Guarda qui cosa abbiamo C'è del petrolio immenso Poi io vorrei scendere ma E andare dall'altra parte Però è una impresa Ti tagga Oh ragazzi Arriviamo dall'altra parte Stop il video eh Nooo Sono morto in un modo Spettacolare Ti piste Oh accettami You don't Nooo Ora no Proprio Ora no Ecco accettami il TPA Dai ragazzi Posso farcela Voglio accettare il mio TPA Sì A posto What the fuck Eh Oddio c'è del marmo Ma qua dove ero caduto dove sono i miei oggetti Lol Li ho perduti Ah no ecco lì Sì ragazzi ho trovato i miei oggetti Inutili ma li ho trovati Mister dove sei Un giro Un giro Un giro Oddio Oddio Mi sembrava uno stereodattilo invece era una nuvola Maronna Dove sei? Che cacchio Non l'ho mai visto la neve da questa parte Tipati qua Sì Stai che piena di colprete Pasto No mi dispiace che non gioco a Technic Ma è davvero troppo pesante Per il mio PC attuale Cioè crasha spesso Mi si avvia un paio di volte E poi basta Ma di solito Dove c'è la neve Stefano Ci sono i pini Qui è l'anda Con la neve Mi piace molto Carne Signore ho trovato Carne Hai trovato? Carne Ah casa Scusa Oh Stefa Facciamosi un riparo Che poi chiudo il video Dai Ah là c'è Ci sono degli alberi Stai Facciamosi un riparo al volo E chiudiamo Anzi no Eh ragazzi ci sentiamo Farò un altro video presto E Ciao da Epic Boss E da Stai Ciao